Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova night session su bitcoin è sempre sabato 13 aprile, quarta analisi gratuita di oggi caspita, direi che l'indicatore ribassista sta continuando a dare i suoi risultati qui, come vi raccontavo, aveva senso mettere un bellissimo allarme qui sopra ricordandosi che, ok, però se fosse scattato, eccoci qua e siamo andati al target che vi dicevo, perfetto, in tempo reale tra l'altro target messo, dunque, quanto tempo fa? dunque, 21.54, sì, è quello di oggi messo il 10 aprile alle 17.24 proprio per la live con Swiss Quote target raggiunto in questo preciso momento ok? e che cosa è successo? è successo che è squillato l'allarme per questo livello di violazione dunque, 67.867 dollari e qui 878 dollari però, purtroppo, qui noi avevamo un livello già volumetrico che mi diceva aspetta un attimo si può scendere, quindi se torniamo qui sopra non andare a fare un trade perché potrebbe essere un una consuetudine che conoscete grazie a questo canale che si ripete solitamente e che produce perdite per chi invece non segue questo canale anche perché i livelli volumetrici non li vede noi li centriamo centriamo, ok? guardate che roba guardate che candela massimo 67.162 siamo già oltre 600 tick 650 tick 650 dollari, scusate di discesa perché gli altri non sanno dirvi che cosa succederà da adesso in avanti e noi invece conosciamo gli swing sappiamo se questo è effettivamente un t settimanale oppure l'otto avvo il nono il decimo il t meno 3 tra l'altro si è tutto vincolato a scendere qui adesso dobbiamo rimpicciolire il grafico perché sennò guardate che roba quindi questo è interessante ma diventa così ok? e di nuovo chi non ha ascoltato l'analisi di oggi chi non ha ascoltato quando segnalavo appunto che questo indicatore di trend stava girando pesantemente dall'altra parte e che se non fosse arrivato un top velocemente con poi un'altra segnalazione di trend ribassista perché a volte può fare questo scherzetto noi saremmo scese qui siamo scendendo un po' ok? adesso qui abbiamo 23 barre e sappiamo che a volte i cicli possono durare quello e qui abbiamo 6 barre sopra un minimo con l'aggravante che abbiamo violato anche lo swing per far partire potenzialmente un quarto di meno 3 con il fatto che abbiamo tra l'altro un raccordo la cosa peggiore è che è che ci sta anche per una cosa di cui non parlo più molto perché a volte non funziona particolarmente bene come l'alternanza anche perché a volte quando cambia l'alternanza succede che si inverte il trend per cui eh ragazzi ragazzi belli che cosa è successo? abbiamo violato questo minimo e quindi abbiamo un altro movimento che non è particolarmente foriero di novità positive per gli odler purtroppo eppure vi avevano infarcito la testa vi avevano detto che grazie all'entrata in vigore degli etf si sarebbe andati to the moon ma non poco eh centomila una sciocchezza si parlava di milioni ormai per bitcoin però non sta succedendo per adesso perché? perché chi fa previsioni di questo tipo o vi dà un motivo per una previsione di questo tipo e vi dà un tempo in cui si arriva a centomila poi non so perché proprio centomila esattamente dollari ok? per un bitcoin perché non novantottomila settecentotrentasette sono sempre cifre facili no? per abbindolare i gonzi o chi è avido o chi purtroppo ha poca esperienza e però a un certo punto uno dovrebbe anche iniziare a farci l'occhio a determinate cose no? come per lo stock to flow che di cui ho fatto persino appunto uno speciale non siamo mai andati a centomila ma siamo andati esattamente dove c'era l'analisi ciclica evoluta che non era ancora così evoluta come è adesso qualche anno fa esattamente dall'altra parte siamo andati a quindicimila quindicimila settecentocinquanta dollari circa contro i centomila che davano un risultato non bello per chi era e fortunatamente alcuni mi hanno ascoltato e mi ringraziano ancora quando ci incontriamo agli happening di trading e sono felice di essere stato quello che ha evitato le persone di perdere tanti soldi se ho contribuito anche un minimo a questa cosa sono estremamente contento se ho evitato a voi che ascoltate questi video di provare troppe operazioni long grazie a quanto detto nel seminario di Sysquot con il target centrato dal vivo ok che metterò probabilmente nel titolo e vi siete evitati di perdere dei soldi non sperando che si andasse a centomila sono estremamente felice cerco di fare del mio meglio per aiutare le persone a comprendere che sentiment fomo hash rate e tutto quello che volete serve ben poco a comprendere dove andrà bitcoin il sentiment è provato che non funzioni le notizie ormai non ce ne sono più non vi danno più neanche un motivo sensato per una discesa e poi tensioni in medio oriente ok e cosa dovrebbe importare a chi detiene bitcoin relativamente alle tensioni in medio oriente che ci deve fare perché dovrebbe vendere bitcoin perché ha paura di cosa che saltino i giacimenti di bitcoin che ci siano attentati a qualcosa legato a bitcoin ma stiamo scherzando bisogna che ci sia qualcuno che a un certo punto fa la voce fuori dal corpo e vi dice ma credete a queste menate ma siete sicuri di sta roba qua perché con le opinioni come vedete si va da nessuna parte con target volumetrici dati dal vivo invece casualmente ci arriviamo nonostante tra l'altro un rimbalzo che per me era abbastanza forte che mi ha fatto dire oh caspita che succede è che succede hanno creato una bull trap successivamente sono precipitati e siamo andati in death cross peraltro death cross l'incrocio della morte che significa che si scende e questa candela se non è una prova di un altro crash e come si chiamava il webinar che ho deciso di fare con sui squat crash dei mercati prima che i mercati iniziassero a scendere pesantemente tra l'altro compreso venerdì nonostante finte di rimbalzi e seguiva la domanda sulle criptovalute chissà perché ho voluto dare un titolo che non si vedeva ancora a monitor ma che adesso è un po' più chiaro a tutti a livello predittivo l'analisi è voluta mi diceva che con quell'indicatore nuovo che ci serve per il tecnica 3 e che sta iniziando ad essere interessante anche per il tecnica 2 se queste non sono discese non so che cosa possono essere e si è acceso qui come vi dicevo appunto qua questa era qua infatti prima è arrivata una discesa ho già detto ah caspita ma allora funziona poi c'è stato questo rimbalzo ho detto ok studiamolo meglio andiamo a controllare che cosa è successo nel passato facciamo i backtest eccetera ha gigioneggiato in quest'area non è riuscito a superare quest'area volumetrica non si è vincolato come temevo si fosse vincolato quando ho fatto questa spike inesistente e adesso eccoci qua su una candela che continua a scendere in maniera decisamente pesante ok per questo motivo io torno a riparlare può essere interessante registrarsi all'evento gratuito dal vivo in cui farò trading dal vivo che si chiama Swissquote Trading Day e che si terrà tra sei giorni il 19 aprile a Torino in piazza Carlina a un gran bell'hotel che si chiama l'NH Collection di Torino che è circa 10 minuti 15 minuti a piedi dalla stazione di Porta Nuova e qui potrete appunto registrarvi e vedere di cosa parleremo ci sarà un'introduzione di Michela Pollini seguirà appunto un mio intervento con operatività e trading in tempo reale riconoscendo appunto determinate fasi dei mercati se ci sarà l'opportunità per appunto avere dei segnali dagli indicatori che ho dalle 10 in avanti seguirà un intervento di Carlo Alberto De Casa che è molto in gamba sulle materie prime e sull'oro che è un'altra delle commodity che tanti guardano e poi appunto parleremo di politica monetaria e di trading quali sono gli impatti ok dopo la pausa pranzo riprenderemo con i falsi miti su bitcoin e il trading sempre in tempo reale e poi concluderemo con valute quindi forex analisi tecnica e strategie operative e chiuderà appunto l'evento sempre Stefano Gianti con sintesi di spunti operativi e quant'altro per cui se volete investire seriamente sul vostro futuro come trader o se volete comprendere come si riescono a dare dei target live dal vivo come si fa anche in house of trading che poi vengono raggiunti o non partono le operazioni a volte non iniziano neanche le operazioni sbagliate fate un salto ma riservate il posto posti riservati stiamo andando al massimo della capienza e non possiamo appunto superarla per cui chi fosse interessato meglio che si attivi rapidamente per venireci a trovare a Torino e che magari valuti anche un bel weekend è una città piena di musei di arte di bellezza per cui ci sono tante cose interessanti tornando a noi ok qui ci siamo fatti parecchio adesso stiamo ancora peggiorando come cosa porca stiamo arrivando quasi a 1000 dollari di perdita no cosa sto dicendo un attimo siamo a 3000 300 e 200 dollari di perdita ok scusate un attimo la stanchezza stiamo iniziando ad andare giù un po' pesanti la cosa inquietante è che appunto qui abbiamo avuto questo genere di violazione vogliamo andare a vedere che cosa ci raccontano di nuovo c'è una narrativa qualcuno si è accorto di quello che sta succedendo andiamo a vedere come al solito con ultimora price alert two crucial indicators ok news crypto state mining bla 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 11 ore fa però niente da fare 48 minuti come I see on the internet solo più 1000 blocchi prima dell'alving quindi sempre più rapido il mining ok price drop 45 minuti fa ci darà ci darà qualche cosa vedete diventa lunga la questione diventa veramente lunga bisogna capire se qualcuno ci racconta qualche cosa mentre invece il target centrato dal vivo tra l'altro non pensavo anche se ci stavamo avvicinando io l'ho dato martedì sabato martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 4 giorni fa livello volumetrico metodo statistico matematico non discrezionale questo è ok adesso che cosa faremo però faremo una cosa interessante come di consueto aspetteremo di vedere quando si ferma perché mamma mia ragazzi sta andando veramente non bene per chi non segue questo canale e soprattutto inizieremo a capire di nuovo come quando c'è stato questo movimento quando inizieremo ad avere un imbalzo siamo in eccesso di tutto però non finché non guarderò i miei indicatori e non avrò un'indicazione di long non mi muovo neanche neanche con le cannonate poi nel weekend furiamoci poi prima dell'alving ancora più rischioso come discorso per cui che cosa ci conviene fare come detto in ogni caso attendere un rimbalzo perché stiamo ancora scendendo ok riflettere sempre su quello che vi ho fatto vedere in continuazione ok anche se non potete purtroppo vedere i livelli volumetrici ma per dire c'era comunque il livello inferiore dell'acumo che è sfiorato ha tirato giù tutto attenzione sempre alle medie mobili ricordatevi che l'inverso abbiamo tutto lo spazio dell'universo nel senso che siamo all'inizio di un nuovo T-1 inverso che sarebbe un ciclo a 4 giorni 3 giorni minimo di spinta e che stiamo violando minimi che non non violavamo appunto da inizio aprile da 11 giorni quindi non è un ottimo segnale prima di dell'alving stesso spero che in tanti abbiano appunto avuto il tempo per ascoltare le mie le mie analisi in modo da aver evitato questa discesa questa discesa e questa discesissima che caspita lascia abbastanza stare a fatto anche me ma questo è ok aspettiamo di vedere la discesa e a quel punto potremmo fare il punto magari anche già domani mattina se ci fossero delle informazioni particolari viceversa la cosa più semplice che farò ovviamente sarà avvisare nel gruppo premium quando potremmo avere un timido rimbalzo a quel punto che cosa faremo andiamo a vedere dove verrà fatto il massimo ok a quel punto conteremo le barre di inverso vedremo se abbiamo superato le 24 se il massimo arriverà dopo la 24esima e qui stiamo parlando già di quando perché come al solito è meglio visualizzare le cose e ragionare sul tempo le 11 di domani mattina ecco magari in mattinata ci sarà una bella morning session come questa mattina per fare il punto della situazione e capire a che punto siamo perché arrivati già 24 barre se avessimo fatto un rimbalzino e poi un altro top attenzione perché bisognerà allacciarsi le cinture di sicurezza e vedere se faranno partire un settimo T-3 ricordandoci però che a un certo punto anche eventualmente in un dicesima barra in un dicesima candela giornaliera o in un dicesimo T-3 dovremo fare il nostro solito baffo di rimbalzo ma potrebbe arrivare appunto non al sesto T-3 tra un po' di tempo e dopo quello di nuovo attenzione a che cosa chiude di inverso perché si rischia di tornare poi a scendere ok? spero di avervi dato come al solito anche negli scorsi giorni un valido supporto per soprattutto evitare di essere investiti in bitcoin ed essere long nel caso vi ringrazierò se metterete un commento e se metterete un bel like a questa analisi iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto il primo canale di analisi ciclica evoluta in cui diamo livelli volumetrici e li raggiungiamo quasi su DAX target assolutamente centrato su S&P 500 e su praticamente tutto ciò che analizziamo o non inizia il trade oppure i target vengono raggiunti vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro delle valide riflessioni sul DAFAS buona serata a tutti